ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video nuovo banner su starrail è arrivato da neng versione drago e non potevamo non provare a prenderlo tutti insieme questo video richiederà sia le mie pull che quelle degli altri ragazzi che l'hanno pullato in live io al 50 e 50 sono a pt 0 perché ho preso kafka proprio al pt massimo tirando le singole quindi di conseguenza sono a pt 0 tondo 4 selle va bene tutto un po' meno marcia che ho già il 6 io spero semplicemente di vincerlo se non lo vinco uso tutto pur di avere quest'uomo se dovessi vincerlo mi fermo e penso per l'arma credo di schipparla perché fra poco arriva jingliuk mi piace tantissimo quindi voglio e ho già l'arma 5 stelle per clara che sarà probabilmente l'alternativa che darò da neng comunque io vi auguro buona visione iscrivetevi al canale e attivate le notifiche e niente passate live sul titolo viola dove siamo adesso così che non vi perderete ovviamente i video in diretta che sono la cosa più bella buona visione a pt 0 e a pt 10 nel banner di daneng drago let's go 4 stelle ve l'ho detto quelle permanente cioè quelle permanente quelli di questo banner vanno beneduti tranne un pochino meno marcia perché ce l'ho già extra tingyun tingyun e altri daneng a 4 stelle vediamo dai vediamo che succede nel mio di banner molto bene e siamo alla e4 ne mancano due molto molto bene e questo è sempre bello e mi garantisce un altro personaggio nel banner nella prossima multi quindi chef kiss ci piace ci piace molto bene andiamo a pt 20 4 stelle vediamo un pochino oggi pom pom me devi volar via portandomi fortuna per favore eh vediamo dai e 5 mi manca l'ultima di asta molto bene molto bene molto bene asta e 5 mi manca l'ultimissima tra l'altro io asta inizio gioco l'ho iniziato ad usare tantissimo poi si è un po' persa nel mio account perché ho trovato poi altri che mi piacevano tanto però oggettivamente lei mi piace proprio un boss ne ho trovato ne ha pt 30 4 stelle diventa molto forte diventa molto 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 forte quindi sono contenta di riutilizzarla manca l'ultima se me la volete dare poi ci spostiamo sulle yukong swordplay ah su shang di fiducia sempre presente ok andiamo a pt 40 pt 40 4 stelle let's go adesso abbiamo garantito uno dei personaggi del banner eh quindi abbiamo il 66,6 periodico ma che mi vada bene vediamo sarà sicuramente l'altro 33 no è andata bene invece è andata molto bene e 3 di yukong bene 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 e 3 di yukong si inizia a costellare anche lei top 4 stelle io sono a secco eh a buttare forza i 100 100 100 si va veloce allora vediamo se riusciamo a trovare l'ultima asta vabbè una dovrà per forza uscire non non ci piango granché ce l'aspettavamo ok ecco comunque marcia sono tutte pull che si accumulano eh visto che comunque potrai perdere 50-50 e dover rifare il pt andiamo a 60 4 stelle veniamo ok siiii 4 bella bellissima 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 allora poi 70 poi facciamo le singolette e poi la multi 70 ci stiamo avvicinando altre due anche di queste e siamo a posto mi mancano un'asta e due yukong abbiamo finito se me le vuole dare in queste ultime evocazioni ok topaz raga la famosa la famosa topaz topaz ok va bene in realtà inizio multi ci garantisce il personaggio del banner vediamo se ci porta fortuna 6 e 5 e 5 manca una manca una di lei e manca una di là ok la topaz ha chiamato un'altra topaz e penso se hai tutti d'accordo con me sulla dichiarazione 71 queste le facciamo a skip ovviamente vediamo se non c'è il 5 stelle quindi 71 72 73 74 ultima perfetto ci siamo andiamo dai su 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 5 stelle e intanto il 5 stelle c'è allora forse il primo forse è un 4 stelle addirittura perché mi sembra dalla multi prima potrebbe essere vediamo ce l'abbiamo almeno almeno sono contenta di aver visto la E6 almeno al di là di tutto lo schifo che magari potrebbe esserci a breve sono contenta di aver visto la E6 di Nasta Pog sì questa è la 75 76 77 78 79 80 81 Gesù 82 Bailu va bene va bene mi mancava mi mancava mi mancava 12 12 allora a sto punto vorrei gentilmente Sivu Play la mia ultima copia anche di Yukong così chiudiamo il capitolo Yukong perfetto Planeta Randv mi sembra ottimo così ci garantiamo il 33,3% periodico che sia lei ma in marcia in realtà va bene qualche sample se mi esce bene bene io stavo ragionando in quelli del banner anche perché di off banner non mi è uscito niente in questa in questa pullata di oggi non mi è uscito niente di off banner tutti del banner andiamo a 22 quindi però se mi esce qualcosa off banner lo accetto volentieri ok vediamo vediamo se abbiamo questa la multi con la nostra ultima Yukong arma tra l'altro quella di Arlan che meme io quella light con la prima volta l'ho trovata tipo nell'ultima volta che pullavo l'avevo mai vista prima mai vista prima la light con di Arlan non sapevo cosa fosse 32 ok Peppi sì di Peppi di Peppi ok ok ragazzi mi rifare su TikTok sì le abbiamo finite le abbiamo finite tutte e due non avrei mai pensato se perdevo 50 e 50 facevo due pit sì però non era sicuro potevano anche non uscire poteva esserci anche un'invasione di marcia invece alzo le mani mission complete dei 4 stelle suprema anche perché penso sia uno dei banner dei 4 stelle migliori usciti fin dall'inizio Fabiosa grazie per il follow quindi molto molto bene molto bene meglio pullare ecco si parlava di off banner ho già lei non ce l'ho e 6 ce l'ho e 5 adesso quindi molto bene adesso posso notarmi letteralmente cosa vogliono mi manca l'ultima su shanghe che mi danno con l'evento però 42 42 per caso non siamo sul 4 sennò erano i gattini mannaggia adesso libero arbitrio copia di xingyun adesso così no ora la prossima è sicuramente uno del permanente cioè di quelli qua perché è uscita su shanghe e non è in rate up quindi quando vi esce un personaggio non in rate up quello dopo è sicuramente uno di loro quindi è una di loro di sicuro infatti ecco marcia però in generale una thingyun una delle prossime singole non sarebbe male 52 ok ok eccoci qua vediamo un po' che abbiamo qui può essere qualsiasi cosa light con il personaggio personaggio in rate up only fans subscribe for more che sia un segno della divina provvidenza per farmi pullare jing e cosa jinglium mi sta suggerendo questo ok e 62 siamo quasi mi sta suggerendo quello ok vediamo vediamo tra l'altro adesso vedo il banner meno male sono uscite tutte ore e non prima perché se fossero uscite prima al posto di tutte le mie altre considerazioni avrei pianto tipo non avrei voluto ok 72 eccoci qua poi allora non so se fare comunque la multi però penso di sì perché tanto mi alzo il pt poi per jinglium se faccio di nuovo la multi cioè faccio le solite due singole quelle che facciamo sempre e poi faccio la multi penso di fare così almeno mi alzo leggermente il pt per jinglium mentre ce lo prendiamo natasha vedete bene bene adesso costellazione di quelli che non ho finito di costellare ottimo ottimo da quando luocia ho dimenticato che esiste natasha ma questo è un discorso a parte che non nel quale non entreremo adesso ok quindi 73 perfetto 74 ok bene adesso abbiamo la multi del 5 stelle dago su let's go let's go multina per il drago eccolo 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 drago 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 let's go let's go allora 75 76 sempre bella vederlo devo dire 77 78 79 pd 79 abbiamo draghettino e ci facciamo appunto qualche singoli da foto ovviamente di rito come sempre c'era 5 stelle eravamo a 70 quindi siamo andati ad 80 a diretto pd 80 quindi quale 5 stelle c'è vediamo che cos'è allora let's go 71 72 73 74 bello 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 sempre bello sempre bello 75 76 77 Bronia? Sì! Tre personaggi nuovi oggi! Tre personaggi nuovi! Il ritardo di tipo 10 minuti ha risposto alla direzione di Shushang Oh! C'è quest'Elle? Sì! Miki! È uno nuovo! Perché c'era là il bottoncino del È uno nuovo quindi è sicuramente qualcosa che non hai Cioè siamo andati a 70 Quindi adesso siamo a 61 con questa Siamo a 61 quindi prima del pity 62 Dai 63 Vai Nikito prima del pity 64 65 Oh! Sì! Sì! Nikito! Sì! È bellissimo Ali 70 è lei! È lei! È lei! Incrociamo le dita! Arma di Daneng! Arma di Daneng! Aiuto Lo toglie Sì! No vabbè! Vai Nikito! Oh! E lui! Sì! Sì! È lui! 76! Il pity Pity esiste ancora in questi giochi Prima esisteva Tutti si trovavano a 76 È tipo un anno a 76 Non esce ma nulla O sempre dopo o sempre dopo o sempre prima Oh! Eccolo! Il secondo di oggi! Bellissimo 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 Oh! C'è cos'è lei! Sì! No vabbè Sì! Allora! Allora! Oddio! Allora vediamo Non si può ancora dare la scommessa Perché deve essere l'arma giusta Però ci siamo A Pity bassissimo Ci siamo Allora Ok ti mancava Buonissima A te tra l'altro ce l'hai il Gepard Eh sì Quindi buonissima Ok Undici Ok 12 13 14 15 16 Che angoscia 17 Eccola! Sì! No! Va bene! Che gioco! 5 stelle Ce l'abbiamo Ci siamo 75 76 77 78 79 80 Sì! Il 5 stelle C'è Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo 65 Easy grazie per il follow 66 Planetary Rendezvous 67 67 67 67 Ne ho preso anche l'arma Fatta raga! È fatta! Vediamo se ce n'è un'altra 68 O meglio 1 2 3 4 5 6 Eccola! Eccola la Landhouse Choice! Allora c'è in questo banner! 6 7 7 È questa! 8 Ce l'abbiamo! È l'ultima! 9 9 Siamo il light con per bailu Grazie a tutti